Musica Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video con BluA64 Scorpio89 è bella ragazzi oggi parleremo di Fifa 15 e oggi vi ringrazio per tutti i 41 iscritti che abbiamo avuto grazie a voi e grazie a quelli che ci hanno sponsorizzato appunto per le sponsorizzazioni volevo ringraziare un attimo che vado a vedere volevo ringraziare appunto Paragames, tanto uno che ci sta, che ci ha iscritto nel nostro canale poi voglio ringraziare anche TrueFa, TrueFakes infatti ci hanno commentato Dexter Dexter pure Stronger Stronger pure Lo sto ringraziando io un po' a tutte le persone che ci hanno mandato i messaggi, ci hanno ricambiato come per esempio anche Vince Piccols oppure che per esempio anche come Flizrex Z9YT oppure Klaus Martedel Metaheld Oppure Deve parlare Natman Minchiatta Pischius Va bene forte anche lui Cioè tutti i video che stanno qua sopra che io mi sono iscritta alla mia pagina sono bravissimi proprio Luciano Stinelli Natostonger Poi c'è anche un altro video che ehm Il nostro caro Aspetta un attimo che non me lo ricordo perchè io mi sto guardando al computer e sto vedendo alla mia canale Comunque Nel frattempo Eric ehm Luciano puoi anche vedere come funziona quella partita Questa è la mia squadra che ho creato e Iniziamo con questa con questa cosa Ah Io ho voluto no Io ho voluto visto che io devo superare il Paris la Parigi io faccio insieme a voi la Parigi vediamo come facciamo cioè se facciamo qui Ah Altro apposito volevo ringraziare appunto questo nostro caro amico TheMateGamer che appunto ci ha sponsorizzato nella sua pagina infatti si è andata a vedere su questo questo giocatore questo voglio dire youtuber Trovele e tappunto la sua l'anata mi senta Iniziamo quindi puoi abbracciare anche la voce Here's your commentary team Martin Tyler and Alan Smith In with the chaff Oh goal Come cominciamo con un goal this is to beat as usual A goal di Diego Costa a goal di Diego Costa one goal di Diego Costa Goal ¡Gol! Cazzo! Perché va a costa? Va bene, vai, vai, vai. Per il primo gol di gioco... Vai, fai un giro! Yes! La palla è mia! La palla è mia! La palla è mia! Eh! Fuori gioco! La linea separatoia di merda! E se fai sempre un fine! No, erano di loro! Quindi non erano di loro! Non sono io ragazzi! Oh, l'ho spiorato! È di nuovo! Palle! Di nuovo! Sa linea di merda! Però ragazzi, sono proprio fortunato! Oh, io devo dire che comunque FIFA 2015 mi piace come gioco! Dopo devi giocare tu! Però non mi piace il fatto che si trovi in questa orizzonte, non lo so! Sarà forse perché io non ci gioco mai a giocare alla Xbox con questo gioco qua! Dopo devi giocare di nuovo! Sì! Sì! Sono il re! Di questo cazzo le monde! Io l'altra volta ho fatto 11 a 0 ragazzi! Non so come ho fatto! Però... C'è... 2-0 qui! Andiamo a tempo! Mi ha preso la palla il bossetto! Sì, ma io appunto non ho capito che squadra... Sì, tu? Cioè... Vediamo un po' di vederci chiaro! Ma che brutto! Ma che brutto! Sì, dentro la porta stava! Daniele, io sono in questa squadra! Ah! E questa è la Paris che devo battere! Stai per non muoverti a Sari! A Sari! A Sari! A Sari! A Sari si dice! A Sari, a Sari! A Fon! Baffin! Basson! Che SD? Certo! Non lo so! Una cosa cazuna che mi è uscita proprio poca ansia! Ci fai che ora viene ancora alla linea… Magari! Oii... Ha scotta l'ultimo sangue! Ah! Ah! Ah!! Ah!! Iii! Ah! Ah! No lo so oo... Ragazzi.. Ah! A Me sinceramente si è carino come gioco... Che non so come io freuenroche vi piacciono.... sul nostro canale e diteci un po' se vi piace questo gioco se continuiamo a giocarci comunque bella cronaca vi do un po' di news ma che cazzatevi non è gol che potevo fare che potevi fare ma non è successo si è buttato giù comunque una news che volevo dare è che molto probabilmente faremo un blog non è un blog vabbè faremo una sezione dedicata alla mitica xbox quella vecchia no non la 360 la 360 la stiamo facendo già adesso dobbiamo fare una sezione proprio sui giochi della vecchia xbox io personalmente non posseggo la xbox quella vecchia però però mi lascio una piccola sorpresa io sono in grado di far giocare i giochi della xbox con il disco rigido con la xbox 360 molto probabilmente in futuro faremo un po' di video io ho io ho io ho io sono arrivati a 3 a 0 a 2 imbéso va bene scorpio che ma a che punto finiremo con questa partita Sì, ma devi fermarmi a farti i batti quindi. Eh, no, non mi piace, non mi piace. Siamo al trentottesimo. Eh, va bene, al trentottesimo. E va bene così, eh. Cioè, siamo quasi alla fine del primo tempo. Un altro bollazzo! No, non è successo niente, non è successo niente. Però, ragazzi, dite la verità, stava per fare un bollazzo. Stava! Ma, puttopo, non è successo niente. E vai, chi dà la palla! Che brutto! E lo prende subito il scaltatore! Il scaltatore! Il scaltatore! No, il scaltatore! Scal... Vai, vai! Vai, il cappellone! Come mio fratello! Oh, oh! Sì, ma chi è? Bellone! Arrete questa linea, madonna! Sono molto... Madonna! Vabbè, sembra di quella linea di merda! Però, ragazzi, devo dirmi una cosa, FIFA 15... Quello che ha fatto FIFA 15 è stato un genio! Primo tempo finito! Primo tempo finito! Primo tempo finito! Cioè, è proprio un... Un'intelligenza... E di un'intelligenza proprio fantastica! Perché questo gioco... Mi piace tantissimo adesso! Devo dire... Se siete appassionati proprio di calcio, secondo me FIFA 15 potrebbe essere il migliore! Secondo me! Vabbè, io... Vabbè, molti pensano che il PES... Che è successo? Il PES 15! Vabbè, ragazzi... Io vi consiglio più FIFA che PES! Perché PES l'ho provato ma... Non è tanto bello! Per me non è tanto bello perché... Secondo me non c'è una grafica proprio! Perché io l'ho provato... PES 2015 non mi piaceva proprio! Mi piace più questo come prospettiva, ragazzi! Boh, vabbè! Ok, ognuno ha le sue proprie preferenze! Chi mi piace PES è amante di PES! Non è che li posso... Oh, dammela palla! Dammela palla! Dammela palla! Dammela palla! Dammela palla, figli di puttana dammela palla! Comunque ragazzi, sì, io mi sono comprato Battlefield 4! Stai in possession! Abbiamo avuto Battlefield 4! Abbiamo avuto Battlefield 4! Abbiamo avuto Battlefield 4! Sbagliato! 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 Sbagliato ragazzi! Non sbaglio! Ho pensato ad un altro gioco che compra tu! E io però... Non era a battere il puttano! No! Mi ha toccato la palla quando stavo facendo goal! Pezzi di merda! Yeah, ma fa proprio dei pezzi di merda, proprio dei pezzi di merda. Ma perché esulti così tanto quando la pella entra dentro? Non entra dentro. Non entra dentro. Non entra dentro. Sì. Vorrei vedere un fallo? No, un fallo è difficile. Vorrei vedere un fallo, vorrei vedere come si incazza il giocatore. Non so se è tu io a tirarla. Mi so adesso. Eh? Non è un palla di scuola? No. No. Ma non mi piace proprio. Stamattin sono andata a scuola e ho fatto quattro ore di... No, quattro ore. Diciamo sette ore. Ho fatto otto ore di italiano, ragazzi. Non si può fare, ragazzi. Non si può fare. Un tettino di merda. Non è proprio quello che l'attacco ha in mente. Andiamo un pochettino al suolo. A che punto possiamo finire la partita? Siamo a 81 minuti e anche a 32. Ma andiamo a... A un tanti lecce. A un tanti lecce. A quel bastardo del portiere che ha legato il costo. A quel bastardo del portiere. Il costo è l'attacco. A un tanti lecce. A un tanti lecce. Ma un tanti lecce. A un tanti lecce. Ma un tanti lecce. Ma un tanti lecce. Ma un tanti lecce. ho ma che teo di merda è la fronte! è l'unico che podemos dire oh 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 è tutto c'erco Grazie a tutti